a ringa grazie dottore dato che la minutezza delle parti rallentava notevolmente il mio lavoro decisi di fare una creatura dalle dimensioni gigantesche ma certo questo semplificherebbe tutto in altre parole le vene i piedi le mani tutti gli organi dovrebbero essere ingranditi esatto questo è evidente diventerà molto popolare